ragazzi bentornati in questo nuovo video e oggi apriamo il polio magico oggi siamo qui col secondo accanto se si sentono delle voci perché stanno la revisione non ci posso fare niente però non apriremo subito un paolo cosa io faccio una battaglia? no, io sto accanto, leggendole che c'ho, tutto fuoco, poi ho pure altri due account su questo tablet, ho scaricato il mio wizard per registrare quindi finalmente posso registrare Crash Royale sul mio secondo account perché c'è il primo cioè non il canale vabbè allora vediamo volevo farvi vedere il mio account comunque al 5 però ora che avremo il polio magico l'oro che avremo ce la porteremo al 6 la riga barbari scelta all'otto, tomatore livello 8, orda di scheletri livello 3 mega sgherro livello 5, manca poco per il livello 6 la leggendaria e il tronco che ho trovato nel baule super magico livello 6 che non so manco più forti mi è laggato così a caso ho riaperto il gioco non c'era più barbari super magico, uno nelle nuove carte e ho trovato questa carta molto bella abbiamo la scarico che è devastante però ragazzi barbaricenti poi abbiamo il moschettire a livello 6 che non dico che fa calore allora ragazzi perché in realtà che cosa è Crash Royale vabbè sarà quasi impossibile ehm ma faccio proprio la sfida che questo gioco è vista vabbè però ne vabbè poi ho queste carte qui e non ripetere sta dire perché sennò poi c'ho pure il massimo l'acqua nel baule maggio sono tornato da a casa ho aperto forca di questo ok ragazzi che bel figlio che abbiamo fatto scusatemi perché se cosa ho preso un virus lo prende tipo una volta al mese io ora cercherò di fare l'antivirus cercherò di fare l'antivirus e speriamo presto perché quando registro non posso non sampurare il corso andiamo portami ok se il mio account oggi ragazzi guarda 2.530 euro ragazzi se non ci vedete io stavo a 2.300 coppe oggi 2.300 coppe sono salito di più di 208 coppe ho cercato di arrivare nella giungla vabbè io dalle io da pochissimo stranello qui ma secondo me stranello è abbastanza però ragazzi dovrei migliorare più spesso le mie carte dici se è un livello 9 ti tieni tutte le comuni non c'è nessuna comuni a 9 e c'è una trallotto questo è vero perché io richiedevo sempre il nomadone sempre richiedevo il nomadone no richiedevo vabbè voglio fare altri fail io ora sto richiedendo il mio magazzino allora quando ho i magazzino cominciano a richiedere domenico domenico cominciano a richiedere i marmari scelte perché li vogliono perché sono una cosa devastante ma deve affrontare tutti quanti ok ragazzi ci siamo atteso troppo poi andiamo a misturare un altro account ragazzi allora siamo tornati su questo account mi vorrei non espogliare una bestiazza anzi da poco provare una nuovissima nuovissima la vogliamo anche si come si e vorrei riportare un altro account ma è stato costato guardare un altro account il mio viru magari vabbè allora non so nel fuorio del canno non siamo schifosi smh 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 facciamo fare la cacca mmmhmmhmmm se c'è caso io mi ho metter presente e il mio amico poi il chat giusto che stava quello che ha fatto un po sta di stare in a pecca ok nel senso 1 2 3 4 non avete visto niente oh epica in live nel baumeo magico ragazzi questo è legionario vabbè lascio allo buono guarda gli scheletri in live che posso portare a livello 3 in live la mia mente su questo account perché guarda un'altra epica non è vero ma vabbè allora passo sulla scarca un po' ok quanti a cazzo di accanto ok ragazzi passiamo all'ultimo H comparare space mamma mia sto cambiando perché problematica l'ultimo video mi spiega 30 gemme no cosa la cosa mi fa la cosa non ho qualche ok ragazzi facciamo un'altra bella fura torno il mastino e la ventana io sto registrando alle 11 e 38 ok dobbiamo a caso la gente dai questo non è un nome adatto no niente bella figura oh mio dio non è possibile hashtag nei commenti hashtag sono troppo scolato hashtag sono troppo scolato ragazzi due fighe in un video nel bollo e mangio quindi ragazzi sono vera o comunque ho spoccato l'acqua io ho vederato vederato ma non ho vederato ma sciopero le gemme che ci frega ok 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 è bellissimo ok ragazzi è giunto il povento di andare ad aprire i batteri di audio oh no voglio vedere più ok allora ok comunque si stanno guardando se sta guardando questo video un mio amico lo saluto ciao si chiama francesco e ciao 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 è stato saluto su youtube da sempre se lo guarderà sto video è ok ragazzi quasi 10 minuti di registrazione e di far presto e di far presto sennò video più di 15 minuti ma penso che ci mettiamo meno di 5 minuti in generale ragazzi anzi 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 ragazzi che troviamo il magaretti dagli raga dagli raga ok ragazzi sono ragazze ho trovato una legenda nel mondo l'ho trovato la porta mandi e meno 7 mi è uscito 475 di ok ragazzi ora 530 di oro ok magico non so ragazzi ci vediamo alle gennaio perché minava ragazzi non mi fate mettere paure ragazzi ragazzi ci potrebbe essere la legenda andiamo avanti ragazzi ok questa nuova ma non devo dare di più ok ragazzi 18 parescetti dagli e me ne potevi dare di più e ragazzi si è girato le comuni poi tutte le rare o mio dio ragazzi tutte le comuni dammi tutte le rare ragazzi ragazzi ma non ci vogliamo top ghi e me ne potevi dare di più ok ragazzi ma anche mi hanno fatto trovare a me dare un costiere, spagnolo, stanno facendo pazzo, guardate che cosa faccio, col pallone, dove poi, ecco su, dall'altre, io ce lo chiamo, non c'ho mai trovato una giornata, sono due giornate, cacchina, 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 cacchina. Spero che questo video vi sia venuto, però ragazzi, ci ha trovato male un po', se poteva darci più già sette rare, poteva esserci una visione, ragazzi, ci ha trovato, ragazzi, lasciate un bel like, perché dico sempre la stessa cosa, io non sento niente, ok. E ragazzi, raggiungiamo due like per il prossimo spacchettamento di pauli a casa, bella raga.